Buongiorno e bentornati. In questo video vedremo una lente in ingrandimento utile per ispezioni e controlli. È una lente 8x, diametro della lente 30 mm, ottima lente in vetro e si usa come un oculare. Può essere usata vicino all'occhio, stando anche a una certa distanza di 4 o 5 cm. Per il trasporto c'è un comodo astuccio. Vedete anche i bordi sono molto precisi, quindi non abbiamo aberrazioni. La qualità di una lente si vede specialmente osservandola ai bordi. È l'osservazione perfetta. Buongiorno e grazie. Grazie a tutti.